Prima facevo l'architetto e che a un certo punto mi sono reso conto che passare la vita lavorando otto ore al giorno davanti a un computer fare un'ora di coda ogni giorno per andare a lavorare è una follia questa Io non so che cosa voglio fare da grande so che cosa non voglio fare da grande non voglio più lavorare dietro una scrivania quindi siamo qui per cercare una nuova cosa per trovare per fare mondo così adesso nel 2014 è molto strano ci vuole coraggio uscire da tutto mettersi qua e vivere di socialità degli amici sì ma io sono preoccupato per le altre persone che non hanno fatto questa scelta perché sempre noi come sono hamsters sempre giriamo in questo cerchio qui si vive così si vive in modo reale i rapporti con le persone direttamente e soprattutto impari è un metodo di lavoro che si chiama lavorare con la fantasia è un notizie di camminazione non le этому mostriamo in questo cerchio è un ru piace per fare il trasumanza pur non è un ruone Grazie.